Sono stati una quarantina gli incendi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco e forestali e volontari della protezione civile in Sicilia tra le province di Messina, Catania, Caltanissetta, Palermo ed Agrigento. Nell'Agrigentino in particolare le fiamme si sono sviluppate a Palma di Montechiaro, in Contrada Capreria, a Sambuca di Sicilia, in Contrada Arancio, a Lucca Sicula, in Contrada Salina, Siculiana, nei pressi del ristorante Liolà, ma anche lungo la Fondovalle Palermo Sciacca, ridosso della strada, soprattutto nella zona di Misilbesi, un incendio quest'ultimo che ha causato qualche rallentamento al traffico. Roghi anche a Palermo, dove un focolaio è tornato ad interessare la discarica di Bellolampo, ma anche a Caltavuturo, in Contrada Favarella, a Carini, in Contrada Lo Zucco, a Contessa Entellina, in Contrada Miccina. L'Istat ha reso noti i dati del censimento della popolazione relativo al 2021. In Sicilia ci sono 4.833.329 residenti, sostanzialmente in linea rispetto al 2020, in calo del 3,4% rispetto al 2011. La stazionarietà rispetto al 2020, dice Istat, è frutto della somma di una componente negativa costituita dal saldo naturale da quello migratorio interno, cui si contrappone a una componente positiva rappresentata dal saldo migratorio con l'esterno, dalla correzione censuaria. Il tasso di mortalità è cresciuto dall'11,4 per mille del 2020, al 12,2 per mille del 2021, con un picco del 13,5 per mille registrato nella provincia di Messina. Gli stranieri censiti sono 184,605, meno 1.590 rispetto al 2020. 3,7 cittadini ogni 100 censiti provengono da 164 paesi, prevalentemente dalla Romania, dalla Tunisia e dal Marocco. Le donne in Sicilia sono il 51,3 per cento della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 125 mila unità. Gli analfabeti e alfabeti senza titolo di studio rappresentano rispettivamente lo 0,9 per cento, il 4,4 per cento dei residenti, il 33,1 per cento dei residenti ha conseguito il diploma di scuola media, il 32,2 ha il diploma di scuola secondaria o di qualifica professionale, il 13,3 per cento possiede una laurea. È stato inaugurato a Lampedusa il servizio di 118 territoriali che prevede un'ambulanza medicalizzata con quattro operatori a bordo, due medici, fra cui un anestesista rianimatore, un infermiere e l'autista. Intanto la situazione è nettamente migliorata nell'hotspot di Contrada Embriacola, dove sono rimasti 326 migranti, tra cui 171 minorenni accompagnati. I 400 trasferiti su disposizione della prefettura di Grigento hanno raggiunto Porto Empedocla, da cui scatteranno successivi trasferimenti nei centri di prima accoglienza situati nel resto d'Italia. È una crudeltà, una terribile mancanza di umanità, così il Papa ha commentato con i giornalisti in volo verso Marsiglia la situazione che sta portando a numerosi sbarchi di migranti a Lampedusa. Inoltre a zona di approdo li tengono nei lager libici e poi li buttano in mare, ha aggiunto il pontefice, guardando la foto di una mamma migrante con il figlio a Marsiglia. Spero di avere il coraggio di dire tutto quello che voglio dire, ha concluso Papa Bergoglio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei 14 imputati condannati il 28 ottobre 2021 dalla Corte d'Appello di Palermo nell'ambito delle indagini antimafia Anno Zero, nella quale il 19 aprile 2018 furono coinvolti i presunti mafiosi, tra i quali anche due cognate del boss Matteo Messina Denaro e fiancheggiatori di Cosa Nostra nella Valle del Belice. Con la stessa sentenza la Suprema Corte ha annullato con rinvio la posizione di 12 imputati, illimitatamente da alcuni reati aggravanti. Le indagini, che hanno fatto emergere anche l'interesse del clan nel settore delle scommesse online, sono state condotte da carabinieri dalla Dia di Trapani.